Salve a tutti amanti della musica, benvenuti ad un'altra entusiasmante giornata su Radio Puggini On Air. Molti di voi si sono iscritti al mio canale YouTube Marco Puggini e ci seguono, ma la maggior parte di coloro che ascoltano le nostre puntate su YouTube non sono iscritti al canale, ma sono spettatori di ritorno, per cui vi invitiamo ad iscrivervi, a voi non cambia nulla, per noi è molto importante. Ma bando alle chiacchiere, oggi siamo qui per raccontarvi la storia di un artista straordinario il cui talento e la cui passione stanno catturando l'immaginazione del pubblico di tutto il paese. Dopo una vittoria trionfale come campione della tredicesima edizione di Tale Quale Show, il meraviglioso Gaudiano, si prepara a toccare i nostri cuori ancora una volta con il suo nuovo singolo dal titolo Numeri. Questo brano, che sarà disponibile a partire dal 10 novembre, per cui venerdì prossimo, tra due giorni soltanto, tra pochissime ore, sarà disponibile su Live Music e su tutte le principali piattaforme di streaming e download, rappresenta questo singolo un'autentica testimonianza della sua profondità artistica e della sua capacità di esplorare gli angoli più reconditi dell'anima umana. Con numeri, Gaudiano si immerge nell'intimo viaggio dell'animo umano, affrontando temi come l'inadeguatezza e la ricerca di identità in un mondo complesso e mutevole. Ci dicono ancora, con una maestria unica, riesce a trasformare le sue esperienze personali in un messaggio universale di speranza e resilienza. La sua straordinaria carriera è stata un continuo susseguirsi di successi che testimoniano la sua versatilità e la sua dedizione all'arte. Dall'indimenticabile trionfo al Festival di Sanremo 2021 con polvere da sparo, alla sua partecipazione nella produzione teatrale di Il Fantasma dell'Opera, Gaudiano ha dimostrato di essere un artista completo, capace di affrontare sfide artistiche di diversa natura, con una grazia e una passione uniche. Oggi, con il suo nuovo singolo, Numeri, si apre un nuovo capitolo nella sua carriera che promette di incantare e ispirare ancora una volta i cuori di tutti coloro che lo ascoltano e che lo amano e lo hanno amato anche per la sua partecipazione recente a tale e quale show, di cui è il campione della tredicesima edizione, come abbiamo detto. Continuate a seguirci su Radio Pugginio Nerd per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti Gaudiano. Fatemi sapere cosa ne pensate del singolo quando lo ascolterete, anche noi lo ascolteremo e ne parleremo ancora qui a Radio Puggini On Air, potete utilizzare i commenti per aprire dibattiti, noi saremo felici di continuare a dialogare, anzi ora sto parlando e voi state ascoltando, ma possiamo davvero dialogare se vogliamo attraverso i commenti dei argomenti che affrontiamo nelle varie puntate, per cui vi aspetto anche per esplorare insieme il magico mondo della musica italiana. In tutte le sue sfaccettature andate a vedere anche le altre puntate in cui parliamo degli altri artisti e soprattutto delle novità discografiche del momento. La musica è l'essenza stessa della vita e siamo qui per condividerla con voi in tutte le sue sfumature. Alla prossima puntata di Radio Puggini On Air.